Musica Musica Amici di FanoTV, ben trovati! Per questo speciale ci troviamo a Fabriano, presso l'azienda agricola biologica Val di Castro, dove questa mattina si terra la terza giornata di lavori all'Osservatorio regionale per le politiche agricole e lo sviluppo rurale, il tutto sostenuto da PSR Marche, e la prossima programmazione del progetto 2023-2027, un'occasione di incontro, di ascolto e condivisione, in cui vedremo protagonisti Mirko Carloni, Lorenzo Bisogni e tanti altri. Andiamo ad incontrarli! Musica Siamo di fronte a un momento molto diverso da quello degli altri due incontri. Siamo davanti a una programmazione europea di politica agricola comunitaria appena approvata dal tavolo nazionale, dopo due anni di litigate, molto difficile, perché sono venute fuori tutte le diversità tra le regioni, ogni assessore ha fatto la sua partita e quindi è stata davvero difficile da chiudere, però siamo riusciti, intanto una cosa a farla, siamo riusciti a introdurre dei criteri del riparto che sono diversi da quelli che sono sempre stati, che era quello storico e basta, e noi ci penalizzava molto quello. Oggi il nuovo PSR 23-27, che per la prima volta verrà gestito dallo Stato e non dalla Regione autonomamente, prevede per la Regione Marche circa 38 milioni in più rispetto alla precedente programmazione. Non sono tanti, ma comunque c'è da essere contenti. Quali sono stati gli esiti della programmazione 2021-2022 e quali le strategie per la futura programmazione 2023-2027? Allora, intanto siamo di fronte a un bivio molto importante e significativo per l'agricoltura italiana, ma anche per l'agricoltura marchigiana. Da un lato i costi operativi che aumentano, la materia prima, l'energia che schiaccia il nostro sistema produttivo, dall'altro le regole europee, si sta iniziando una nuova programmazione di politica agricola comunitaria, c'è un nuovo riparto di fondi che per la prima volta gestirà lo Stato di PSR 23-27. Ci sono una serie di step che in qualche modo vedono nella agricoltura marchigiana una fase nuova e che non possiamo che gestire in modo consapevole. Per questa ragione oggi siamo alla Chiostro della Val di Castro dove c'è un confronto con tutto il sistema produttivo marchigiano, con anche gli interlocutori che abitualmente non sono associazioni agricole ma hanno a che fare con l'agricoltura e possono dare un loro contributo, un loro approccio alle scelte che dobbiamo fare. Più le scelte sono condivise e più di solito possono essere vicini e conformi agli agricoltori. In questo periodo dell'anno gli agricoltori andano a fare, sono in campagna e certamente non vengono ai convegni, noi dobbiamo riuscire a fare il loro bene cercando di capire quello che serve. E lo facciamo da un posto straordinario come questo perché qui voglio lanciare oggi l'idea del no turismo che sarà una delle strategie importanti dell'agricoltura per cambiare l'approccio. L'agricoltura non solo più come fatto produttivo, come fatto di accoglienza e turismo diventerà un motore economico per la nostra regione. E siccome il vino e in qualche modo i percorsi del vino di fatto saranno dei cammini, qui San Romualdo intorno al 1000, tornato dal cammino di Santiago da Compostela, ha fondato questa comunità. E quindi è legato al cammino di Santiago e su questo noi cercheremo anche di fare una connessione con il governatore della Castiglia che conosco e cercheremo di in qualche modo connettere i cammini che noi faremo sul vino con quello di Compostela. L'emergenza siccità inevitabilmente si dovranno ripensare i piani per quanto riguarda il comparto agricoltura e un'altra piccolissima cosa, c'è la possibilità che l'emergenza entra, entri nelle case dei cittadini con delle misure da parte anche della regione. Allora intanto sulla siccità c'è una misura aperta che riguarda anche le comunanze agrarie, riguarda i comuni che possono creare degli invasi. Con il nuovo PSR cercheremo di dare fondi e finanziamenti agli imprenditori che creano delle raccolte private in modo da trattenere l'acqua e utilizzarla a fine agricoli e quindi riapriremo una misura che metterà a disposizione delle risorse al 100% per le imprese. Dall'altra parte oggi è importante anche perché abbiamo altre emergenze, oltre a quella idrica che è fondamentale ma è contestuale al momento, che è quella della peste suina, su cui abbiamo messo, apriremo anche su questa una misura, di circa 5 milioni per potenziare le recinzioni, fare in modo che ci sia maggiore biosicurezza nel contatto con eventuali vettori della peste. La cosa che oggi diremo e che stiamo annunciando da qui è che sul PSR 23-27 ci sono 38 milioni in più rispetto alla precedente programmazione e questo è un fatto che ci deve vedere particolarmente orgogliosi. Perché? Perché sono il frutto di una negoziazione che è stata fatta anche molto lunga tra tutte le regioni italiane e che vede un riparto che non è più solo quello storico, ma siamo riusciti insieme ad altre regioni a far introdurre nuovi criteri di valutazione. Quindi nel riparto delle risorse del PSR quest'anno ci saranno più risorse rispetto a quello precedente. Ad oggi noi ci troviamo per il 2022 nello stesso livello di spesa dell'anno scorso. Mancano ancora molti soldi, però siamo allo stesso livello. Rispetto all'anno scorso abbiamo un certo rallentamento però della presentazione dei progetti strutturali. E' anche comprensibile, dopo i due anni di Covid arriva anche la guerra con i prezzi schizzati delle materie prime, ritardi di mesi della consegna delle attrezzature e quant'altro. Io spero che si riesca a recuperare il più possibile e quindi anche se non raggiungeremo, non lo so, ai livelli dell'anno scorso, l'anno scorso avevamo superato di 15 milioni il livello minimo della spesa. Speriamo anche quest'anno di andare oltre la soglia dell'N più 3. Quindi ovviamente qui c'è una raccomandazione per i nostri funzionari che dovranno correre, anche se i progetti arriveranno in ritardo, e ovviamente i tecnici che dovranno fare il possibile per portare a casa magari non la totalità di un investimento di un'azienda, ma quello che è effettivamente possibile realizzare. L'osservatorio sbarca in un luogo particolare e strategico per quella che sarà anche la nuova programmazione del PSR? Sì, è una bellissima azienda, allevamento biologico estensivo, al pascolo, quindi è sicuramente uno degli orientamenti delle strategie del nuovo programma di sviluppo rurale, per favorire il biologico e coltivazioni e allevamenti con il basso impatto ambientale. Diciamo che oggi facciamo questo incontro con le imprese, oltre che con le rappresentanze sindacali, la cooperazione, ma anche le singole imprese, perché siamo in un momento importante. Stiamo per definire la programmazione 23-27, nello stesso tempo ci confrontiamo anche su quello che è il passato, cioè quali problemi abbiamo avuto nella gestione, abbiamo fatto un grosso sforzo di semplificazione delle procedure, quindi cercheremo anche di capire se questo è stato colto e se ci sono eventualmente altri suggerimenti per migliorare. Dicevo però l'argomento principale è la programmazione 23-27, due giorni fa c'è stata l'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Riparto delle Risorse, a noi vengono 390 milioni, 23-27, che uniti ai 185, che ci sono già arrivati a ottobre, ammontano a 576-77 milioni, quindi un po' più dell'altra volta, nel periodo 14-20 erano 536. Quindi dobbiamo un attimino definire quali misure attivare, i grossi temi ormai li conosciamo, sono l'ambiente, la tutela dell'ambiente, quindi agricoltura a basso impatto ambientale, la competitività dell'impresa, ovviamente è uno degli elementi portanti del PSR, sia delle imprese agricole che dell'agroindustria. Poi abbiamo anche lo sviluppo rurale, inteso in senso ampio, che comprende anche aiuti per il turismo, per la promozione e quindi aiuti anche per l'agriturismo e quant'altro. Quindi il pacchetto è molto importante da decidere, quindi questo è un momento importante e fondamentale. Per i bandi emessi di recente, quali sono stati i riscontri? Allora, noi abbiamo avuto già, con le nuove risorse 21-22, abbiamo già aperto due bandi giovani, in quel caso abbiamo finanziato tutti, l'ultima, il secondo bando ancora non è concluso, ma con le risorse arriveremo a finanziare tutti quelli che hanno le condizioni, sono circa 130 giovani che si insediano con le domande presentate da dicembre ad oggi. Poi l'altra grossa soddisfazione è l'adesione alla misura di investimenti nelle aziende agricole. Abbiamo avuto quasi 700 domande con una richiesta doppia rispetto alle dotazioni. Ora l'assessore ha già detto che dobbiamo attivarci per cercare di soddisfare il maggior numero possibile. Forse tutti non ce la faremo come per i giovani, però cercheremo di arrivare avanti con la gradattoria. Poi ovviamente abbiamo aperto tutti i bandi agroambientali, sono già scaduti da pochi giorni, il 15 giugno scadevano e qui in genere riceviamo domande ogni anno per circa 50 milioni di euro, tra la metà per il biologico, 25 milioni, altri 15-16 per gli aiuti alle aree montane. Qui siamo in un'area montana e arrivano 200 euro ad ettaro per cercare di mantenere l'agricoltura in queste zone. E poi altre misure minori. Ecco, abbiamo già praticamente quasi, non dico impegnato, ma messo a giro quasi tutte le risorse del primo biennio. Sono stato contattato da degli israeliani che hanno in mano la commercializzazione delle carni sia locali che internazionali del mondo, sia ebraico che halal. Questo significa che un progetto con numeri molto consistenti, in visione di una crisi mondiale per le carni, perché loro mi hanno accennato, e che io non conosco i numeri e sto studiandoli per poterlo capire, che abbiamo un grande calo di produzione di carne bovine. Loro praticamente hanno sia la voglia, la disponibilità, ma un progetto in mano di poter acquistare 500 capi a settimana, sia sul nostro territorio, qualora ci fosse, o anche fuori territorio. Tutto questo per poi dare l'opportunità e l'idea che sto pensando io insieme al nostro gruppo di poter portare questo progetto nelle marche, perché inizialmente nasce al nord, perché al nord stanno già facendo questa tipologia, e dico che per le marche poteva essere una grande opportunità, vista anche il mondo allevatoriale. È stata scelta per questa terza giornata di incontri la sua azienda. Ci racconti la storia. La storia nasce nei primi anni 90, con un po' il lavoro della mia famiglia, su un obiettivo ben preciso, valorizzare questo territorio abbandonato all'epoca, però di grande potenzialità per prodotti di eccellenza. A quel punto abbiamo iniziato a lavorare per il recupero di tutto quello che poteva essere boschi, pascoli e soprattutto il fulcro portante, l'abbazia, perché comunque abbiamo una struttura, grazie a San Romualdo, fondatore degli ordini camaldolesi, dove mille anni fa ha deciso di investire in questo territorio costruendo l'abbazia di Val di Castro. In un momento di criticità per gli imprenditori, questa è sicuramente una grande opportunità di ripresa. Come pensate di poter sfruttare al meglio queste misure messe in campo dalla Regione? Ma diciamo che è una grande opportunità soprattutto per la commercializzazione, per l'unione tra imprenditori, la divulgazione di tutto quello che può essere i nostri prodotti che fino a pochi giorni fa non erano conosciuti. Oggi siamo conosciuti a livello nazionale ma anche internazionale. Oggi le Marche sta diventando un'eccellenza a livello mondiale. Noi, grandi lavoratori del nostro territorio marchigiano, grandi prodotti, grande territorio ma poca divulgazione, poca unione e spero proprio che questo progetto dia un grande lancio e una grande opportunità ai nostri lavoratori marchigiani. La sfida che il governo regionale sta affrontando in questi mesi è quella di ridefinire un nuovo modello di sviluppo economico e proprio per questo Carloni è il punto di riferimento centrale e all'interno di queste nuove prospettive, di questa nuova visione l'agricoltura ha una centralità maggiore rispetto al passato e triangola con tante altre materie nella costruzione di questa prospettiva futura. Grazie a tutti! Grazie!